Tabbaccaio scomparso a Villa Rosa nel 2004, fu ucciso, il suo cadavere distrutto, arrestati i quattro soggetti, assolto perché i fatti contestati non costituiscono reato, l'avvocato Raimondo Maia. Il questore Bruno Megale saluta Caltanissette, una città combattiva che saprà riprendersi. Favata, accordo con Anas del 2014 svanito perché non sia all'altezza della situazione. Salvami, danza, recitazione, musica e fotografia per raccontare temi delicati. All'alba di oggi, mercoledì 22 febbraio, a Villa Rosa, in provincia di Enna, a conclusione di articolate attività investigative coordinate dalla direzione distrettuale antimafia di Caltanissetta, svolte congiuntamente dalla sezione criminalità organizzata della squadra mobile di Enna e dai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Enna, nell'ambito dell'operazione denominata Fratelli di Sangue, sono stati tratti in arresto. Damiano Nicosia, nato a Villa Rosa, residente, 60 anni. Amedeo Nicosia, nato a Villa Rosa, 51 anni. Maurizio Giuseppe Nicosia, nato ad Enna e residente a Villa Rosa, 54 anni. Michele Nicosia, nato in Belgio, 53 anni, residente a Villa Rosa. A loro carico sono stati acquisiti gravi indizi di colpevolezza del delitto di associazione di tipo mafioso con aggravanti specifiche, finalizzata a commettere omicidi, usura, traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e porto di armi, nonché ad acquisire in modo diretto e indiretto la gestione e il controllo di attività economiche. Per quanto riguarda Maurizio Giuseppe Nicosia e Michele Nicosia, i gravi indizi riguardano l'omicidio di Giuseppe Bruno, proprietario di una rivendita di tabacchi a Villa Rosa, scomparso il 27 maggio 2004 e la distruzione del suo cadavere, delitti aggravati dalla modalità mafiosa. Le indagini coordinate all'epoca dalla procura di Enna, svolte al tempo della scomparsa del commerciante, immediatamente denunciata dai suoi familiari dopo che la sua vettura era stata rinvenuta parcheggiata in prossimità dello svincolo mulinello dell'autostrada A19 Palermo-Catania, non permisero l'acquisizione di elementi sufficienti per l'esercizio dell'azione penale e il relativo procedimento venne a suo tempo archiviato. Anche la trasmissione RAI Chi l'ha visto si occupò a lungo della scomparsa del tabaccaio. Le recenti dichiarazioni rese alla direzione distrettuale antimafia di Caltanissetta da un collaboratore di giustizia, Santo Nicosia, diretto testimone della vicenda, hanno consentito di ricostruire l'esatta dinamica dell'omicidio, contraddistinto da tratti di inaudita ferocia. Il corpo di Bruno, sezionato con una motosega, sarebbe poi in parte stato dato in pasto ai maiali, in parte bruciato all'interno di un fusto metallico. Il movente è collegato alla violenta reazione dei Nicosia a fronte dell'intenzione manifestata dalla vittima di voler riscuotere un credito vantato nei loro confronti. Era un rapporto sicuramente di conoscenza e la vittima aveva prestato del denaro a uno dei fratelli Nicosia. Questo rapporto si era protratto nel tempo, nel senso che il denaro non era stato ancora restituito, poi erano avvenute alcune vicende giudiziarie dei fratelli di Nicosia e quindi appena uno dei fratelli è stato scarcerato, si sono riallacciati i rapporti per la riscossione dell'intero credito che nel frattempo era lievitato un pochettino per applicazione di interessi. L'avvocato onisseno Raimondo Maira scrive Nel mese di febbraio del 2013 veniva disposta una perquisizione in studio e a casa, con l'intervento peraltro molto corretto nella forma e nei modi di decine di funzionari della Guardia di Finanza e della Polizia. Grande clamore pubblico e trambusto in studio con i clienti. Controllo di tutti i fascicoli di studio, dei conti bancari e della situazione economica finanziaria per presunta evasione fiscale di alcuni milioni di euro. Sequestro di tutti i beni anche dei miei figli e blocco di fatto di qualsivoglia attività bancaria. Ho deciso, seguendo la mia indole e la mia professione di avvocato, di non protestare, di evitare proclami e dichiarazioni e di difendermi in silenzio, nel processo e non contro il processo, con un lungo dibattimento, sentendo 50 testi, affidandomi ai miei avvocati e alla competenza del giudice. Il processo, chiarita l'applicabilità delle norme, ha dimostrato che non ho commesso alcun reato e gli accertamenti della Guardia di Finanza hanno comunque dimostrato che tutti i movimenti economici operati in tutti questi anni sono stati tutti di natura professionale e non di provenienza illecita, ovvero scura. Per intenderci, niente tangenti e ruberie varie. Su conforme e motivata richiesta del PM è arrivata finalmente la soluzione, perché i fatti contestati non costituiscono un reato, con di sequestro dei beni ma con un prezzo altissimo sul piano personale, umano, professionale e politico. Avvocato Raimondo Maira. Il questore Bruno Megale lascia la questura di Caltanissetta per ricoprire un prestigioso incarico, dal primo marzo non sarà più qui, oggi vuole salutare ufficialmente i Nisseni. Sì, assolutamente sì. Volevo veramente ringraziare tutta la comunità Nissena per l'accoglienza e per il rapporto meraviglioso che ho avuto in questi quasi due anni di mia permanenza in qualità di questore di Caltanissetta. È un ricordo di questa città che porterò con me sempre, non solo perché è stata la mia prima esperienza da quest'ora, ma perché ho trovato una città vera, una città generosa, fatta di persone molto sincere, di persone molto dirette che mi ha arricchito tantissimo. E consentitemi soprattutto di ringraziare i miei funzionali e i miei poliziotti. Personale eccezionale, personale squisito, personale con una grande dedizione al lavoro che mi ha consentito di portare a casa dei risultati eccellenti anche da un punto di vista professionale, di crescere come uomo e come funzionale di polizia ed è soprattutto grazie a loro, al loro sacrificio, alla loro dedizione che oggi io posso dire orgogliosamente di essere stato il questore di Caltanissetta. Sono stati anni molto difficili devo dire per me. Primo perché era la mia prima esperienza da quest'ora in una realtà che non conoscevo, quindi ho dovuto studiare tutte le problematiche connesse alla sicurezza di questa realtà. È una città molto complessa che ha tutta una serie di problemi anche abbastanza difficili, non solo allegrati alla presenza purtroppo pervasiva di queste organizzazioni criminali di tipo mafioso, ma anche problemi connessi al degrado, connessi alla mancanza di lavoro, quindi problemi anche di ordine pubblico. Quindi comunque è una città che assomba tutta una serie di problematiche, ma al tempo stesso anche è una città che ha delle realtà virtuose d'eccellenza, ha comunque uno spirito combattivo, quindi io credo che Caltanissetta possa avere veramente la possibilità nel futuro di risollevarsi e di risollevare le proprie sorti. Qual è l'incarico che andrà a ricoprire? Andrò a ricoprire l'incarico? Il capo della polizia ha pensato di mandarmi a dirigere la quinta zona pulizia di frontiera che è un incarico interregionale di coordinamento dell'attività di frontiera sia terrestre che marittima che aerea del Lazio, della Sardegna e dell'Umbria, quindi un po' mi occuperò prevalentemente di problemi connessi alla sicurezza e al terrorismo, all'immigrazione ovviamente, oltre che tutta la gestione di un... è un incarico abbastanza importante, quindi sono molto molto contento e anche molto entusiasta di andare a rivolgere questo nome. Certo, lascio la città con un grande magone, devo dire perché ho trovato nella... questa realtà veramente delle persone vere, autentiche che mi hanno arricchito molto. Ecco, quindi porterò con me il ricordo dei miei poliziotti di Caltanissetta, di Geli e di Scemi, che sono veramente degli entusiasti del lavoro e porterò soprattutto con me il ricordo di una città che mi ha dato tanto. Gli agenti della Polizia di Stato della sezione volanti di Caltanissetta nel corso dei servizi di controllo del territorio in via Paladini hanno notato una Peugeot 206 con a bordo due individui, i quali all'altezza di via San Giovanni Bosco hanno effettuato una derapata al fine di mettersi in velocità nella via. La manovra eseguita senza perizia ha procurato l'arresto della Peugeot proprio davanti la volante della Polizia. Gli agenti hanno intimato ai due soggetti di scendere dal mezzo. Per tutta risposta il conducente della Peugeot è ripartito a forte velocità lungo via San Giovanni Bosco. I poliziotti si sono messi all'inseguimento dei fuggiaschi che sono stati bloccati poco dopo. Prima che gli agenti riuscissero a bloccare il conducente della Peugeot, un pregiudicato nisseno di 23 anni, il passeggero si è dato a precipitosa fuga, a piedi, lungo una scarpata, facendo perdere le proprie tracce. Dalla perquisizione del conducente e del mezzo gli agenti hanno sequestrato sei dosi di marijuana, per complessivi sei grammi. Dalla perquisizione domiciliare presso l'abitazione del giovane hanno rinvenuto e sequestrato altri 5 grammi dello stesso stupefacente. Un bilancino di precisione e altro materiale usato per confezionare le dosi da spacciare. Il 23enne condotto in questura è stato identificato, sottoposto a rilievi dattiloscopici presso la polizia scientifica e denunciato alla locale procura della Repubblica in Stato di Libertà. Per i reati di detenzione, fini di spaccio di stupefacenti, resistenza pubblico ufficiale e guida è stato di alterazione psicofisica in quanto risultato positivo al test degli stupefacenti. Al giovane è stata inoltre ritirata la patente di guida e sequestrato ai fini della confisca il mezzo. L'altro soggetto, un pregiudicato nisseno di 24 anni che si trovava a bordo del mezzo e che si era dato alla fuga, è stato rintracciato poco dopo dai poliziotti. Il ragazzo, dopo la perquisizione negativa, è stato rilasciato. Torniamo a parlare delle opere di compensazione. Come sapete c'è stato un vertice a Roma tra l'ANAS, l'amministrazione comunale e una delegazione di consiglieri comunali. In pratica verranno eseguite delle opere non quelle previste dall'accordo 2014. Accordo portato avanti dall'amministrazione Campisi. Abbiamo sentito l'ex assessore Andrea Milazzo che dice quell'accordo era valido a tutti gli effetti anche se non rientrava nella delibera Cipe. Poi l'assessore Tuminelli che dice no, la legge dice che deve essere una delibera Cipe e quindi l'accordo non era valido. Adesso interviene il consigliere comunale Antonio Favata che dice io nel 2014 c'ero, le cose non stanno così. Sì, io c'ero. Fu una riunione molto pepata, erano più le grida che i ragionamenti che noi portammo avanti. Alla fine l'ANAS ci ha detto e abbiamo firmato un protocollo d'intesa che è tuttora valido. Altrimenti cosa significerebbe mettere nero su bianco? Non avrebbe alcun senso. L'ANAS accettò quel protocollo che noi portammo avanti e siamo fermi a quel momento. Quello che ha detto l'ex assessore Milazzo in pratica è sbagliato che sono andati a parlare con i vertici dell'ANAS perché comunque l'ANAS è quella che deve pagare quindi effettivamente si tira il suo. Mentre l'incontro doveva svolgersi al Ministero. È ovvio, è ovvio. Anche perché noi riteniamo, soprattutto in questo momento, che ulteriori incontri e altro stanno facendo soltanto perdere ancora del tempo. La città di Caltanissetta oggi deve essere risarcita. I problemi della viabilità, i problemi per andare a prendere l'autostrada, la bretella bloccata, insomma sono problemi che noi non abbiamo creato ma che stiamo subendo. Oltre alle opere di compensazione che sono quelle che il Consiglio Comunale all'epoca ha deciso e bolle, non ce ne sono altri. Quali sono? Ricordiamolo alla città. Sono diverse, sono tre, sono dei raccordi per raggiungere diversi punti, lo mettiamo così perché abbiamo detto tante volte ci corriamo il rischio di annoiarci tra noi stessi. Svingoli che servono esclusivamente alla nostra città. Ovviamente si ritorna a parlare di contrada stretto, lì non c'entra niente, non bisogna immaginare di poter spendere questi soldi per contrada stretto perché là ci sono finisamente della regione, bandie europee, ci sono altre situazioni che è meglio non toccare. Abbiamo dei soldi per fare qualche cosa per la nostra città, per la viabilità della nostra città. Quindi a suo avviso perché l'amministrazione Ruvolo non fa rispettare questo accordo? Ma io se fossi sindaco sinceramente farei tutt'altro. Io metterei in modo l'ANAS e addirittura userei l'essere sindaco, cioè toglierei le autorizzazioni. O voi ci si ferma tutti e vedete quello che dovete fare, invece che andare a Roma a trattare. Per carità ci può stare politica, io non dico di no. Ognuno tira acqua al proprio mulino, ma bloccare, togliere l'autorizzazione. Voglio vedere come si comporteranno questi l'ANAS e ai nostri confronti, se non assendiranno a quello che il Consiglio Comunale ha già deciso. È stata disposta dal Tribunale di Agrigento l'archiviazione per Alfonso Cicero, ex Presidente dell'IRSAP, e Marco Venturi, ex Assessore regionale delle attività produttive. Il GIP del Tribunale di Agrigento, Alfonso Malato, su proposta del Pubblico Ministero Brunella Sardoni, a seguito dell'udienza camerale tenutasi il 19 dicembre 2016, ha emesso un'ordinanza di archiviazione del procedimento per diffamazione a mezzo stampa, a carico di Alfonso Cicero, ex Presidente dell'IRSAP, Md Marco Venturi, ex Assessore regionale delle attività produttive, difesi dall'Avvocato Annalisa Petitto. Ordinanza notificata il 20 febbraio 2017, scaturito da una denuncia presentata nel 2012 da Stefano Catuara, ex Presidente del Consorzio Asi di Agrigento, Manganella Giovanni, Filippo Panarisi, Giovanni Cani, Aldo Piscopo e Salvatore Gangi, ex amministratori del Consorzio. Nell'ordinanza di archiviazione il GIP in sintesi evidenzia l'esercizio del diritto di cronaca e di critica. Non può non evidenziarsi che la Corte dei Conti, con alcune recenti sentenze divenute definitive aventi ad oggetto gravi contestazioni di natura erariale, ha condannato per danno erariale gli ex vertici consortili, così dimostrando che le dichiarazioni rese da Cicero e Venturi non erano, perlomeno sotto questo profilo, destituite da fondamento. Inoltre il GIP ha rilevato che non vi è nessun dubbio sull'esistenza e rilevanza dell'interesse pubblico collegato alle dichiarazioni di Cicero e Venturi. Catuara e gli altri ex amministratori nel 2012 avevano querelato Cicero e Venturi per alcune dichiarazioni diffuse dalla stampa, che adesso il Tribunale di Agrigento ha valutato legittime. Cicero in sintesi aveva denunciato alla stampa una gestione dell'assi di Agrigento a dir poco opaca. Lo spaccato delle nomine effettuate senza requisiti di legge, la disastrosa gestione della situazione economica. Venturi in sintesi aveva denunciato alla stampa, gli ex vertici consortili e colletti bianchi avevano lasciato indisturbate le imprese in odore di mafia. Pagamenti effettuati in violazioni alle leggi, in debite maggiorazioni alle indennità degli amministratori e dei vertici burocratici, in alzamento dei livelli dirigenziali. Cicero e Venturi hanno chiesto al Pubblico Ministero di verificare gli estremi del reato di calunnia a carico di catuare degli altri ex amministratori per altri fatti, chiedendo di valutare la trasmissione d'ufficio degli atti alla Procura della Repubblica di Agrigento. Grande successo lunedì sera per la prima Caltanissetta al Teatro Margherita dello spettacolo Salvami. Oggi mercoledì lo spettacolo va in scena per gli studenti elementari, medie e superiori e nei prossimi giorni lo spettacolo girerà tutta la Sicilia, prima San Cataldo, poi Canicattia e via via altre città siciliane. Parliamo dell'importanza di questo spettacolo e delle tue coreografie soprattutto. Allora, l'importanza di questo spettacolo è basato sul sociale, quindi raccontiamo con la danza, tutto quello che riguarda il sociale, da tutti i vari sfaccettature del sociale. Le coreografie sono basate su quello, però non sono difficili da interpretare perché comunque il fatto che c'è un racconto prima fa in modo che chi guarda la danza riesce anche a captare i movimenti e si immedesima, si fa coinvolgere dalle parole dell'attore. Abbiamo affrontato temi importanti che partono dall'immigrazione, dalla disabilità e soprattutto anche al principio dell'inclusione sociale. Io sono molto soddisfatto come presidente della cooperativa Etnos ma anche come parte di un gruppo di produttori eccezionali, Ernesto Trapanese, Eugenio Bonaffini, sono sicuramente dei punti di riferimento perché chiaramente loro sanno fare arte, sanno fare questo lavoro. Noi mettiamo soltanto il nostro ritorno alla comunità attraverso il nostro Sprar di Caltanissetta, infatti sono presenti anche i nostri minori e abbiamo voluto proprio raccontare attraverso l'arte quello che sono le emozioni che vivono le persone che fanno l'esperienza del viaggio della speranza. Devo dire che è stato tutto eccezionale, davvero sono molto orgoglioso oggi di rappresentare un gruppo di professionisti. Quindi salvami innanzitutto a una struttura teatrale, la struttura teatrale del monologo. Parla di Said, un uomo più o meno cinquantenne arrivato tanti anni fa in Italia dalla Libia. Quest'uomo nel corso di questi anni ha vissuto tutte le vicissitudini appunto della propria condizione di profugo. Quando partì dalla Libia c'era ancora il regime di Gheddafi e quindi gli toccò di scappare di notte con un barcone, con i genitori, in questa traversata persa i genitori e una volta arrivato qui in Italia fu affidato ad una comunità. E da lì, da quel momento in poi, lui racconta qual è tutta la sua vita. Alla fine scopriremo che si riesce anche a laureare in medicina, diventa medico e nel finale ci renderemo conto di come ha vissuto questa vita, ha condotto questa vita anche alla luce della propria condizione di profugo e di disabile. Perché quando era lì in Libia si era accorto di avere questo problema, un problema di displasia alle anche. e quindi questa traversata in Italia, sebbene gli abbia fatto perdere i genitori, l'ho aiutato anche nel risolvere il problema della propria malattia. Grazie a tutti. Grazie a tutti.